Alla Fiera dell'Agricoltura non solo quello che ci si può immaginare come piante, alberi e quello che riguarda l'agricoltura che si tocca con mano ma ci sono anche i mezzi che poi servono per lavorare anche le terre, non solo, voi in questi anni lavorate per questo in due rami, fate due tipi di lavoro, in che cosa consistono? Sì, sono due rami dell'azienda, uno si occupa, ed è anche quello con il quale siamo nati nel 2009, si occupa di assistenza tecnica su piattaforme aeree, sollevatori telescopici, gru ed escavatori idraulici. L'altro ramo dell'azienda invece si occupa di vendita, macchine Movimento Terra Comazzu sulla provincia di Pescara e Chieti e macchine per il sollevamento Palazzani, ragni, gru, idrauliche su Abruzzo e Molise. Come mai la scelta di essere presenti a una fiera che comunque è anche la più importante del centro-sud Italia? Noi partecipiamo praticamente dal 2015 a questa fiera e ci teniamo a essere presenti anche perché è una fiera di riferimento, come dicevi tu, soprattutto in Abruzzo e Molise che sono i territori che ci riguardano. Per quanto riguarda il vostro settore, la pandemia e adesso la guerra, le questioni geopolitiche, come stanno inflazionando sul vostro lavoro? Diciamo che stiamo lavorando bene, ovviamente viviamo il problema credo di tutti quanti con l'aumento delle materie prime e la scarsità di quelli che possono essere ricambi e macchine perché bisogna considerare che i tempi d'attesa per ordinare ad esempio un escavatore nuovo sono raddoppiati rispetto a prima. Chi sono i vostri utenti principali? Ecco, chi si rivolge alla vostra azienda? Sì, soprattutto aziende che fanno lavori stradali, imprese edili, l'industria tantissimo e realizzazione di infrastrutture. Guerra a parte, anche uscendo fuori dalla pandemia, avete toccato con mano una ripartenza? Assolutamente sì, c'è stata una grande ripartenza, la pandemia e la guerra la stanno rallentando, nonostante la stanno rallentando comunque c'è stata un'impennata di vendite e anche come servizio di assistenza tecnica è raddoppiato rispetto ai nostri standard. È un peccato perché senza queste due variabili inaspettate sicuramente si poteva fare. Comazzo è una delle marche più importanti, più note nel settore che voi vendete, che voi toccate con mano tutti i giorni. Ecco, questi macchinari utilizzati anche per dei lavori importanti, come avete detto, una garanzia sicuramente. Voi siete soddisfatti di avere questo marchio? Noi siamo soddisfatti e onorati e soprattutto per noi sicuramente è un bigliettino da visita importantissimo presentarci con un brand quale Comazzo perché è un general construction, costruisce praticamente di tutto, è un full liner, ha una linea completa di prodotti e quindi ci dà la possibilità di sederci a qualunque tavolo. Sempre più a esigenza del cliente finale, parliamo anche di aria condizionata all'interno, per citarne alcune. Noi cerchiamo per quanto possibile di soddisfare sempre il cliente, dandogli un ottimo servizio per il post vendita e questo ci dimostra negli anni che la formula funziona. Diffordati Diffordati Diffordati